In casa aveva 45 flaconi di metadone, qualche grammo di hashish e delle dosi di cocaina ed eroina e materiale per il confezionamento. Prova che poteva offrire qualsiasi tipo di sostanza stupefacente ai suoi clienti. Un 60enne invalido padovano residente in zona Portello, in città, insieme al suo complice, un 39enne tunisino, aveva messo in piedi un florido giro di spaccio. I carabinieri intervenuti nel suo appartamento hanno trovato durante la perquisizione anche 2000 euro in contanti. I due sono stati arrestati per detenzione di droga e fini di spaccio. Durante la perquisizione, oltre ai flaconi di metadone, all'hashish e alla cocaina e all'eroina, nella stanza di un 45enne tunisino che vive con il 60enne invalido e si occupa di lui, è stata trovata un'altra dose di eroina e quindi è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Il 60enne invalido è finito agli arresti domiciliari, mentre il 39enne tunisino è stato portato in carcere a Vicenza. Grazie. 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 Grazie.